Salve amici e amiche, siete un cittadino russo che si è appena stabilito in una bella casa gratuita nel Donetsk, territorio occupato, e vi comunicano che è appena arrivato il gas, quindi decidete di cucinarvi il piatto nazionale, lo sci, che è a base di crauti e funghi. Ma questo è quello che succede. Poi c'è la voce in Donetsk. Nornata è la voce, ma non è di un'aztale. Ora prendiamo un'altra comfort, questa. E'vvito, anche la voce inizia. E'vito, anche la voce inizia. E'vito, è tutto bene. ok quindi se non altro al massimo potrà riconvertire il suo piano cottura in un bidet sempre se almeno almeno il gabinetto oltre a quelli comunque cari amici benvenuti mettetevi comodi che oggi c'è un po di argomenti da trattare fra l'altro parleremo dei soldati della corea del nord la notizia è stata confermata e vedremo anche da dove arriva questa notizia quindi andremo ad indagare nelle fonti si parlerà poi del fronte degli aggiornamenti che arrivano che ci sono stati in queste 24 ore parleremo degli attacchi dronici e di tecnologia dronica soprattutto perché so che fra di voi ci sono persone molto competenti quindi saranno preziosi i vostri commenti a riguardo e altre notizie secondarie quindi come sempre prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale è un piccolo gesto gratuito assolutamente fondamentale per aiutarmi a crescere così come lasciare mi piace quello serve per spingere i video nell'indicizzazione iniziamo allora nei giorni scorsi si è iniziato a parlare di questi soldati nord coreani arrivati a combattere per la russia la notizia in sé è abbastanza complicata direi non è per niente una cosa positiva voglio dire no le reazioni internazionali non sono tardate ad arrivare ma tratteremo anche quelle ma da dove è arrivata la notizia da fonti nord coreane questo è il sito nove governativo di intelligence governativo qui fra l'altro c'è il documento che si può scaricare anche se è difficile visualizzarlo però grazie al magnifico google possiamo tradurre la pagina e vi leggo alcune parti all'inizio di agosto il servizio di intelligence nazionale ha catturato le circostanze in cui kim jong-sik primo vice dirittore del ministro dell'industria militare che è al centro dello sviluppo misilistico della corea del nord ha visitato il sito di lancio del missile nord coreano kn 23 lo hanno fatto diverse volte vicino al fronte russo ucraino con dozzine di ufficiali militari nord coreani e hanno fornito assistenza sul posto del fatto che i russi stessero usando armi nord coreana e si sapeva non è una novità ma continuiamo successivamente mentre il sì l'agenzia governativa sud coreana monitorava da vicino i movimenti dell'esercito nord coreano il servizio di intelligence nazionale ha rilevato che la corea del nord trasportava forze speciali nord coreane nella regione russa tramite una nave da trasporto navale russa questo avveniva dall 8 al 13 confermando l'ingresso dell'esercito nord coreano nel territorio russo secondo il national intelligence service quattro navi da sbarco e tre fregate appartenenti alla flotta russa del pacifico hanno completato il primo trasferimento di circa 1500 forze speciali nord coreane nelle aree vicino a chongjin hanbyung musudan dalla corea del nord fino a vladivostok in russia nello stesso periodo e prossimamente sarà previsto un secondo trasferimento questa è la prima volta dal 1990 che una flotta navale russa entra nelle acque nord coreane inoltre grandi aerei da trasporto come l'antunov 124 dell'aeronautica russa viaggiano spesso fra vladivostok e pong yang quindi i soldati nord coreani inviati in russia sono attualmente distanza presso unità militari russe in estremo oriente quindi distribuiti fra vladivostok usurisk eccetera eccetera poi ci sono le appendici che adesso li andiamo a vedere infatti andiamo proprio a guardare questo questa è una foto in infrarossi ok si riconosce un porto e questa foto appunto rileva che questo oggetto è una nave con i motori accesi risulta più calda credo che sia in infrarossi da poi sotto vediamo che c'è una ricostruzione dei tragitti di queste navi dal porto di vladivostok per la corea del nord ora basandomi su questa immagine sono andato a vedere di che si tratta e questo per esempio è google maps quindi vediamo fondamentalmente che la distanza fra la russia siamo in estremo oriente qui è la distanza fra vladivostok che è questo grosso porto militare russo come vedete ci sono navi militari incrociatori eccetera mezzi da sbarco scusate navi da assalto da sbarco quello che è da qui sono partite per raggiungere la corea del nord e il porto che si vede in questa immagine è praticamente questo quindi un porto minore e da qui vengono imbarcati esattamente questo le immagini di questo sito poi parlano abbastanza chiaro perché questa altra immagine si vede questo assemblamento di soldati sono letteralmente soldati seduti presso il centro di addestramento e poi vengono schierati sempre nei centri di addestramento e qui addirittura c'è cicciobomba che è andato a visitarli mentre si allenano quindi questa è la notizia poi sono arrivati anche altri video in cui questi soldati fra l'altro ecco ritorno un attimo sul sito perché mostra una cosa interessante come vedete fra nord coreani e popolazioni del popolo mongolo nella siberia orientale praticamente non c'è quasi nessuna differenza quindi sarà difficile distinguerli comunque arrivano altre immagini come se i navi cargo che fanno la spola mezzi e questi sono i frammenti del missile kn 23 nord coreano ok quindi le situazioni sono queste arrivano anche video che mostrano questi strani personaggi che appunto hanno fattezze tipiche di quelle popolazioni che si equipaggiano di tutto punto con uniformi russe queste sono uniformi russe arrivano fra l'altro anche altre altri video come questo per esempio che mostra sempre questi soldati marciare eccetera eccetera quindi questa è la situazione io non commento anzi lascio che sia il primo ministro inglese a commentare questa notizia gravissima perché è un fatto gravissimo però sentiamo cosa dice la corea del sud ha appena dichiarato dice alla giornalista che truppe della corea del nord sono state mandate in russia che dati di intelligenza abbiamo in inghilterra e che cosa pensi a proposito di una escalation per questa situazione per questo evento il primo ministro dice ho visto il rapporto il primo ministro dice ho visto il rapporto e se è vero è un chiaro segno di disperazione da parte di putin parla a proposito di un inverno molto difficile per cui sta cercando di reclutare quanto più personale possibile quindi questo è un commento che condivido assolutamente però di sicuro non è una gran bella notizia allora passiamo adesso a parlare del fronte la situazione è in cambiamento ci sono piccole novità interessanti allora i primi aggiornamenti ve li porto dalla zona di Kursk ok allora la situazione qui ha una doppia lettura vi avviso perché arrivano informazioni da parte ucraina arrivano informazioni da parte russa cerchiamo di confrontarle e certamente quello che voglio portarvi non è una versione di parte cerco di portarvi un po' delle notizie quanto più oggettive possibile però in questi giorni è un po' difficile perché in qualche modo bisogna dare riportare entrambe le fonti e ognuno cerca di portare acqua al suo mulino allora partiamo con la versione ucraina una cosa che posso mostrarvi anche se poco vedete questo fotogramma ok mostra un'immagine satellitare e poi qui nel riquadrino c'è un mezzo su una strada su questa strada ok non posso mostrarvi tutto il video e non voglio spoilerare ma fondamentalmente quello che succede è che il classico copione su questo mezzo è un bmp tipico mezzo a otto ruote da assalto russo su cui viaggiano tanti soldati penso almeno una decina sul tetto fra il tetto e dentro quello che succede andiamo a vedere la stessa stradina vedete ecco qua questa è la strada lo riprendo vedete fate caso alla forma del villaggio e del fiume quello che è di questo laghetto questo villaggio che sembrano due chele di granchio è questa strada dritta ok è esattamente qui che si è svolto questa questo video ed è una ripresa di un drone ucraino quindi il video è geolocalizzato ulteriore conferma e sì questa è con Cina che si vede c'è un nomino disteso è di ieri e questo è in mezzo delle forze russe distrutte quindi c'è stato un assalto frontale da parte russa in questa direzione verso est che è andato incontro a una demolizione forzata ecco diciamola così ci sono i rapporti tutti del 18 quindi questo assalto è stato respinto possiamo dirlo per quanto gli aggiornamenti mostrano le truppe russe che cercano di sfondare da questo punto di vista qui in questo punto possiamo dire che questo attacco è stato respinto la stessa cosa possiamo dire qui come vedete c'è una tattica russa che è quella di mandare a velocità elevatissime i mezzi in avanti per cercare di far passare qualcosa ma incontrano la resistenza ucraina diciamo così la resistenza delle armi ucraine ecco mi rendo conto che se mi sentite un po' tentennare su alcune parole è perché devo stare attento a cosa dico non uso il bip come fa il mitico avvocato Francesco Catania quindi cerco un po' di argomentare in maniera alternativa per evitare la censura di youtube allora qui fra l'altro in queste geolocalizzazioni viene riportato anche vedete ci sono due concine di soldati russi in ritirata questo dimostra che la situazione in questa parte è complicata e i russi stanno cercando il tutto e per tutto ma vengono respinti ora per collegarmi sempre a questo e restare sempre sulla fonte ucraina da fonte ucraina arriva un contrattacco dicono che sta avvenendo un contrattacco in questa parte quindi secondo questa fonte grey school che non credo che sia un nome attendibile dice pro ucranian channel reports a successful ucranian counter attack quindi fonti dice fonti pro ucraina dichiarano che c'è un contrattacco in questa parte della regione di kursk quindi precisamente qui non sappiamo se è vero l'unica cosa che possiamo vedere almeno sulla base dei video che il mitico maya cosco 73 ci fa il piacere di posizionare geolocalizzati sulla mappa e vediamo appunto il 19 vediamo delle azioni proprio stamattina delle azioni offensive di artiglieria ucraina questo non sappiamo se è accompagnato da una loro avanzata speriamo nel senso che ci sia un contrattacco perché al momento negli ultimi sette giorni sembra che le forze ucraine abbiano solo respinto attacchi russi ora fra l'altro mi collego anche a questo video che arriva da questi soldati ritirati che probabilmente sono stati catturati almeno questo è quello che viene detto in questo video ve lo mostro giusto per un secondo per evitare problemi sono due soldati russi che sono stati catturati e dai soldati ucraini della 155esima brigata dei marine ok la prendiamo un attimo 155esima brigata marine vediamo dove sta dovrebbe trovarsi qui da qualche parte almeno questo è quello che hanno dichiarato vediamo sulla mappa di Mayakosk ecco 155esimo brigata marine che si trova qui ecco quindi non qua come dicevo presumibilmente questi soldati che vi ho mostrato nel video sono stati catturati in quest'area quindi qui ok perché qui è segnalata dalla mappa di Mayakosk la posizione della 155esima brigata marine ora se quelli sono dei marine è tipo io sono bionda e con gli occhi azzurri per chi mi ha visto in live sono due prigionieri cioè allora la loro storia per quello che posso dire vi passo il link in descrizione perché praticamente sono due soldati che hanno le mani legate non posso mostrarveli semplicemente stanno in ginocchio hanno le mani legate e vengono interrogati dai soldati ucraini quello che raccontano è che entrambi sono stati prelevati da un carcere uno di questi dice stavo in un carcere di massima sicurezza dice letteralmente così sono in pessime condizioni questi soldati fanno fatica a respirare hanno il fiatone probabilmente sono malati perché tossiscono comunque questo questo soldato dice io sono stato prelevato da un carcere di massima sicurezza in Siberia da qualche parte e il soldato ucraino a questo punto gli chiede sì ma cosa avevi fatto per stare in un carcere di massima sicurezza e lui dice avevo rubato è un semplice ladro dice ho rubato e mi hanno messo per questo articolo mi hanno messo in quel carcere ci hanno prelevato e ci hanno mandato al fronte poi il soldato ucraino gli chiede cosa stavate facendo qui la risposta è stata questa ci hanno mandato qui questo è il punto dell'intervista per sedere qui e aspettare perché poi gli altri sarebbero arrivati dopo allora se questa non è una definizione di mandare avanti la gente sacrificabile ditemi cos'altro è allora per invece parlare della situazione opposta quindi fino adesso abbiamo parlato di una fonte fonti ucraine invece parliamo per quanto riguarda quello che sta accadendo da parte russa e sembra che ci sia un attacco da parte loro in pressione a una pressione verso ovest qui stiamo parlando sempre della parte della regione del Kursk se non è chiaro quindi mentre 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 i ucraini respingono l'attacco da questa parte da quest'altra parte i russi spingono e infatti le geolocalizzazioni mostrano degli assalti con carri armati il 18 vedete proprio ieri questo era il 15 tre giorni fa il 18 ci sono dei carri armati che avanzano questi sono dei mezzi distrutti quindi alcuni mezzi di fanteria porta trasporta fanteria sono stati distrutti ma questi video mostrano dei carri armati russi in avanzata diretti verso Suja che si trova qui quindi nei giorni scorsi vi avevo parlato di una situazione in divenire di conseguenza dobbiamo aspettare gli sviluppi in questa parte del fronte andiamo avanti allora vi ho accennato ieri che c'è stata una bella offensiva da parte ucraina nella zona di Zurelevka a nord di Kharkiv riportata qui stiamo ancora aspettando gli aggiornamenti della mappa perché insomma quello che è stato detto è che l'azione ucraina si è concentrata in questo bosco che è stato liberato circa 400 ettari di foresta e che probabilmente gli scontri adesso stanno venendo qui ora andiamo avanti altra situazione che si è aggiornata è qui questa è una zona liberata il 16 tre giorni fa proprio nella zona di Lipsi e poi scorriamo per andare a parlare di questi altri progressi da parte ucraina se vi ricordate vi ho parlato di questa offensiva russa diretta alla strada dove c'è Senkove nella zona di Piscane qui la proiezione russa era ovviamente quella di raggiungere questa importante linea di comunicazione che ha di strategico anche ci sono giusto tre ponti che tagliano questa linea uno è qui l'altro è qui qualcosa del genere l'altro più a sud ora è chiaro che se dovessero riuscire a raggiungere questa importante strada potrebbero chiudere tutto questo settore letteralmente perché da un punto di vista logistico sarebbe punto chiave quello che è successo in questi giorni che è stato riportato è un contrattacco da parte ucraina quindi non solo in queste ultime settimane c'è stato un progressivo demolizione forzata diciamola così di mezzi russi e fanteria in tutta quest'area mano mano che i russi avanzavano ma c'è stato un vero e proprio contrattacco da parte coraina precisamente qui nel villaggio di curiavilca esattamente in questa direzione quindi quest'area attualmente è contesa e stanno ed è gli ucraini sono in pressione da questo punto di vista ora è interessante perché se zoomiamo vedete questo questo villaggio è l'area in cui si combatte si è combattuto è l'area in cui gli ucraini hanno ottenuto un progresso un vantaggio in questa in questa direzione perché vi ho mostrato così da vicino questo villaggio fate caso ok che qui si vede questo punto con questa ante questa è un'antenna vedete che fa l'ombra sul terreno questa è un'antenna televisiva suppongo notate questa strada che ok con questa forma particolare infatti sono arrivate immagini proprio di questo e vi passo in descrizione vi passo dei video che testimoniano questo assalto da parte ucraina vi mostro qualche fotogramma fate caso questi sono i soldati ucraini che liberano il villaggio questo è il centro di comando che ha coordinato l'attacco e nelle immagini sugli schermi guardate un po' lo faccio vedere ok si è visto vedete l'antenna vedete le due strade è questo il villaggio è questo esattamente precisamente questo come vedete si parla proprio di quest'area quindi confermato andiamo avanti allora questo è un carro armato russo come vedete questi sono i loro tentativi di proteggerli dagli attacchi dronici c'è di tutto e di più è veramente una sorta di rivisitazione brutta e povera del film Mad Max non so se l'avete visto è quello fra l'altro una cosa che volevo commentare ci sono due antenne che dovrebbero proteggere da attacchi dronici ma ecco chi magari è stato carrista fra i miei iscritti potrà confermarlo se già la visibilità all'interno di un carro armato la consapevolezza situazionale attorno non è delle migliori ok quando ci sono i portelli chiusi ma secondo voi chiudendo il carro in questo modo quanta quanta consapevolezza situazionale hanno di quello che sta avvenendo lo sanno se c'è un drone che gli ronza sulla testa assolutamente no andiamo avanti notizie di sabotaggi interessanti ora la macchina del luogotenente generale Abakov comandante del secondo del del secondo reggimento quello che è di Luhansk e anche questa è stata demolita forzatamente però mentre era in corsa questa macchina e diciamo è stato un'azione di sabotaggio quindi uno dei generalissimi è passato diciamo così ora parliamo di droni allora fra l'altro accidentalmente oggi ve lo dico io quando pranzo o ceno sono soli è l'unico momento della mia giornata in cui guardo la televisione italiana circa per 10 minuti 15 minuti e occasionalmente se mia moglie non mi costringe a vedere CSI occasionalmente guardo un telegiornale non ridere che ridere non fare gesti italiani e occasionalmente guardo un telegiornale oggi sono finito su Rai 2 che ha parlato solo degli attacchi ucraini dicendo che gli ucraini hanno attaccato la Russia con attacchi dronici bene no la Russia ha attaccato da due giorni che sta martellando l'Ucraina questo è un video che ci dà un'idea giusto una piccola sequenza che ci dà l'idea di quanti droni per volta arrivano questi sono giusto 4 insieme questi sono ecco 7 questi erano tutti droni Shahed droni iraniani che poi vengono anche intercettati come vedete questo per esempio è finito nel cortile di casa di un ucraino giusto ve lo mostro per farvi vedere le dimensioni di questo drone chiaro quindi questi questi sono gli attacchi russi in continuazione sull'Ucraina e quindi questa notte ce ne sono stati altri tantissimi altri fra l'altro alcuni vengono intercettati e mostrano la loro tecnologia vi mostro queste immagini per chi conosce la tecnologia dronica giusto per vedere per esempio la motorizzazione classico motorino per cos'è questo un motorino per per piccoli scooter derivato sembra un bicilindrico quello che è con un elica a passo fisso e questa per esempio è l'elettronica ora ripeto vi mostro questa immagine perché so che fra di voi ci sono persone molto esperte però io qualcosa tipo nel 2012 mi sono autocostruito un esacottero per fare riprese aeree utilizzando arduino e credo che ci sia qualcosa del genere qui sembra tecnologia molto domestica però ecco tutti questi sono condensatori mi chiedevo appunto volevo chiedervi un'opinione questi qui in viola però ecco di questo si tratta una cosa che però volevo mostrarvi è che per esempio anche i russi stanno cercando di amplificare gli eco di ritorno di questi droni qui li hanno fatto rivestendo con della vetroresina una semisfera di acciaio di rete metallica questo serve per amplificare il segnale radar del drone quindi qui vedete altra tecnologia e questo serve per utilizzarlo come esca quindi per attirare l'attenzione della contraerea ucraina su questo oggetto e non sull'arma che magari segue a distanza quindi questo è quello che succede sull'ucraina e questi sono i droni che la russia usa per gentile concessione dell'iran altro stato canaglia andiamo avanti allora non posso mostrarvi questo video però sempre per restare in termini di crimini di guerra da parte russa questa è una sequenza di 50 secondi che ti mostra tra l'altro questo video non è diffuso da parte ucraina questi sono video che arrivano dai blogger dai z blogger di mosca cioè per loro la propaganda è questa è mostrare al mondo come i loro operatori dronici prendono di mira le auto civili in ucraina per fare cosa per semplicemente costringerli a sloggiare fargli capire che non è insomma questo è quello che succede in questo video ci sono diverse sequenze che non vi posso mostrare però ecco i civili vengono presi di mira inseguiti con i droni e presi di mira quando sono nel loro auto ora al contrario di quello che succede nei film nei telefilm le automobili i vetri le portiere tutto il metallo che ci circonda quando andiamo in macchina non è antiproiettile non è antischegge se un drone esplode nelle vicinanze tutte quelle schegge penetrano le lamiere delle automobili come niente quindi le persone sono estremamente esposte non sono mezzi militari e non sono blindati andiamo avanti mentre la russia commette queste cose tutte le notte gli ucraini invece rispondono in modo strategico e questa notte è stata colpita una fabbrica russa una importante fabbrica per la produzione di componenti elettrici questo è successo nella zona di Brihansk qui come vedete in questa città non vi posso mostrare il video ma è stata colpita la fabbrica ripetutamente con un attacco dronico ottimo colpo allora passiamo sempre oggi stiamo facendo un po' e un po' fonte russa questo è un blogger uno di quelli che cercano di fare il loro lavoro che ha un minimo ancora di onestà su telegram questo ve lo mostro perché è abbastanza significativo la signora è una vedova il marito è partito al fronte ha tre bambini e a un certo punto dal governo le hanno comunicato che il marito era passato o trapassato ecco dice che la vita è difficile e che praticamente dal governo le hanno detto che non hanno trovato il corpo del marito quindi non ha diritto a nessun compenso quindi da circa un anno lotta per ottenere almeno un minimo di risarcimento visto che deve mandare avanti tre figli è quasi un anno il marito è sparito in azione missing in action sarebbe mia l'acronimo nonostante ha ricevuto un documento che conferma che è stato ucciso da un colpo di carro armato deve passare attraverso i tribunali per ottenere il riconoscimento e il risarcimento mentre lavora di notte come tassista per mantenere i suoi figli quindi sì questa è la situazione e chiudiamo quindi il video di oggi con almeno una buona notizia infatti c'è stato uno scambio di prigionieri 95 soldati ucraini sono tornati indietro se ne è parlato anche nei telegiornali oggi quindi sì è una notizia valida e confermata e fra l'altro ecco per allacciarmi al discorso del telegiornale di Rai2 sinceramente lo guardo poco perché quando riesco è solo per una questione di tempo perché tipo inizia all'una e così cerco di vederne due uno all'una l'altro all'uno e mezzo e cerco di cambiare anche per curiosare fra le diverse versioni dei fatti ora hanno parlato di questo evento però hanno mostrato i prigionieri russi perché ora questo soldato non sta facendo il gesto sta salutando mentre grida slava ucraina e poi dice urrà non posso farvi sentire l'audio perché c'è una musica per una questione di copyright comunque è una scena molto commovente perché questi soldati hanno potuto riabbracciare le loro madri le fidanzate le mogli e i figli ed è un'ottima notizia insomma ecco questo voglio sottolinearlo perché gli scambi di prigionieri si possono tenere e fare solo quando ci sono prigionieri da entrambe le parti ultimamente i russi stiamo vedendo che non li fanno i prigionieri ci sono stati dei casi gravissimi qualche giorno fa quindi cari amici per oggi è tutto vi auguro un buon fine settimana come sempre un abbraccio alla prossima